Sono momenti decisivi sul fronte iscrizione ai campionati. Nelle prossime ore la Covizoc esprimerà il proprio parere sulle documentazioni presentate dalle società. Coloro che non risulteranno in regola avranno tempo fino a lunedì 8 luglio per presentare ricorso. Poi il Consiglio federale del 12 luglio definirà il quadro dei club partecipanti ai campionati professionistici. Verdetti che si riflettono ovviamente sul calciomercato. Il Pescara ad esempio è alla finestra per il centrocampista Massimiliano Busellato, sotto contratto per altri due anni col Foggia. I satanelli pur avendo presentato domanda di iscrizione vanno verso l'esclusione del campionato e il conseguente svincolo d'ufficio dei tesserati. Un fatto che accelererà la ratifica dell'accordo con lo stesso Busellato pronto a sottoscrivere un contratto triennale con il Pescara e ad andare a irrobustire una mediana nella quale al momento sono inorganico i vari Brugman, Memushai, Crecco, Bruno e Canutè con l'aggiunta di Melegoni di nuovo in prestito dall'Atalanta e poi con il sogno di mercato Luca Palmiero il 23enne ex cosenza di proprietà del Napoli le incognite sono legate alla permanenza o meno di Gaston Brugman e alle condizioni di Canutè che non gioca dallo scorso febbraio ed ha faticato a rimettersi a posto negli ultimi mesi e quelle di Melegoni che dopo il grave infortunio subito a marzo sarà a disposizione non prima di ottobre. Sfuma un altro nome per il centrocampo sondato dal Pescara Francesco Deli anche egli prossimo a liberarsi dal Foggia ed ora vicino all'accordo con la Cremonese il club grigiorosso che è molto vicino ad un altro calciatore attenzionato dal Pescara il terzino sinistro classe 99 Marco Sala passato dall'Inter al Sassuolo nell'ambito dell'operazione Sensi e che lo scorso anno si è ben comportato in Serie C ad Arezzo dove ha collezionato 34 presenze. Resta tuttavia di grande attualità il discorso centroavanti il presidente Sebastiani e i direttori Repetto e Bocchetti sanno che devono rimpolpare quel ruolo con almeno due nomi uno dei principi dettati dallo stesso Sebastiani è non avere fretta ma saper aspettare il mercato e le sue occasioni eppure al netto di Bunino almeno un centramanti sarà consegnato a Zauri per l'inizio della preparazione nelle ultime ore è tornato fuori un nome da anni accostato al delfino Fabio Ceravolo in uscita dal Parma ma come per Iemmello l'ingaggio del giocatore è un ostacolo resta viva anche la pista Melchiorri pupillo del DS Repetto che proverà a riportarlo in Biancazzurro anche se il Pescara non vuole mettere soldi sul piatto per liberarlo dal Perugia al di fuori del calciomercato la giornata odierna non è come tutte le altre il 4 luglio è il giorno del compleanno del delfino che compie 83 anni la data è stata celebrata sui profili social della società